Buongiorno, buona mattina a tutti voi, buon lunedì, buon inizio di settimana, benvenuti a Occhio ai giornali, come sempre sfogliamo quotidiani il resto del Carlino e Corriere Adriatico in edizione locale per vedere quali sono le notizie che troverete poi al loro interno una volta che andrete in edicole e comprate il giornale, naturalmente fogliazione un po' ridotta come tutti i lunedì perché c'è ampio spazio allo sport, però le notizie non mancano, iniziamo però dal, come di consueto, dal santo del giorno e vediamo l'almanacco di oggi, lunedì 11 settembre San Giovanni Gabriele di Paraboire di Sacerdote, il sole è sorto alle 6.41 e tramonterà alle 19 e 29. Bene, allora dicevamo che l'affogliazione è un po' ridotta, però insomma partiamo dalla pagina iniziale del resto del Carlino, si parla ancora di migrazione nonostante la pioggia, però il Carlino parla degli abusivi, loro ci sono, nonostante la pioggia, i tafferugli, sabato i vigili hanno fatto un'azione di contrasto decisa con i venditori abusivi che non sono mancati alla fiera di San Nicola e la foto di apertura è tutta per loro del resto del Carlino, però l'allarme sicurezza è reale, parla il sindacato delle forze di polizia, non c'è niente di infondato, dicono naturalmente i responsabili del sindacato e poi il divieto e baristi contro Ricci, ordinanza assurda, parlano e poi a Piobbico naturalmente il consueto appuntamento con il Club dei Brutti che sceglie la Belva, che nel nome già tutto è un programma, però non c'è Luisa Corna, non c'è né la pioggia e né Luisa Corna. Poi andiamo nella chiesa di San Giovanni, un restauro importante per il terremoto ad Ancona, petizione dei cittadini e regione in comune, questo è a pagina 4. Guardiamo anche cosa c'è nelle pagine interne, appunto il nodo della sicurezza, il nodo della sicurezza che è venuto sicuramente al pettine, virtù del fatto che a Rimini sono accaduti dei fatti di estrema violenza e gravità che poi hanno avuto una ripercussione anche sul nostro territorio perché il branco era un gruppo di persone che risiedeva nel nostro territorio. Allora si parla di parchi, di sicurezza e appunto il sindacato di polizia, il SIULP, dice non riusciamo più a garantire i servizi, parla Marco Lanzi, i sequestri di droga sono aumentati nella regione in maniera esponenziale, qui lo vedete nella foto, troppi reati nella nostra città, questi sono fatti, allarmismi, le forze di polizia sicuramente sono quelle che forse più di altre hanno il posto reale della situazione, essendo sul territorio, sul campo ogni giorno a contrastare tutto quello che aggredisce l'ordine pubblico e qui vedete appunto i poliziotti delle volanti nei controlli che fanno quotidianamente e quindi insomma il sindacato dice non è allarmismo ma fatti reali quelli che noi portiamo alla vostra attenzione. Poi il caso di Borgo Santa Maria, troppi profughi stasera alla riunione del quartiere o ci danno retta o andiamo in massa in prefettura, quindi hanno intenzioni sicuramente di far sentire la loro voce, gli abitanti di Borgo Santa Maria hanno detto che Oscar Gabbani, cosa ci fanno i migranti in giro fino a tarda notte, non dovrebbero restare, rientrare alle 22.30 nelle strutture, clima di allarme, qui i fatti stanno succedendo, chi lo nega, dove vive? Questa è la sua domanda. Abusivi, quindi insomma sempre il problema di chi in realtà c'è ma non dovrebbe esserci alla fiera di San Nicola, qui li vedete mentre arrivano in massa con i loro borsoni, con la loro mercanzia, qui rifugiati sotto il tunnel per chiaramente sfuggire alla pioggia. Gli abusivi rintanati appunto nel sottopasso e veniamo qui anche per 5 euro arrivati con i barconi. Chi ha aggredito i vigili non lo conosciamo, le testimonianze anche tra di loro per i fatti violenti che sono avvenuti. Fatte altre multe a chi acquista naturalmente da loro perché non si può, in quanto hanno merce o contraffatta o non legale, noi un altro lavoro non ce l'abbiamo, veniamo qui perché si vende bene, queste le loro considerazioni. Il sindaco Ricci che cosa dice? Chiede aiuto alla gente, non comprate dagli abusivi, non date soldi nei parcheggi, quindi il concetto è se non trovano di che vivere, di che comunque fare guadagno, in maniera naturale il fenomeno si estingue, questo è il suo pensiero. Poi il lancio dalla prima pagina, vetro e alcolici vietati, la rabbia dei baristi perché chiaramente quello è il loro fonte di sostanzamento, ordinanza Ricci assurda perché solo noi restano coinvolti i locali dal provvedimento, solo quelli nei luoghi caldi, quindi insomma gli operatori del settore dicono c'è una sorta di discriminazione tra chi lavora in queste zone e chi invece no. E poi la pagina che riguarda Fano e Urbino parla del festival del brodetto, delle zuppe di pesce, il festival internazionale che si è concluso ieri e ha decretato sicuramente una grande risposta di pubblico come sempre, però il brodetto di casa che era la manifestazione che incoronava i cuochi non professionisti che si sfidavano a colpi di mazzole e di gamberoni per creare il brodetto il più originale possibile alla ricetta madre, vince questa cuoca non professionista, una mamma, Lucia, che non è tra l'altro neanche di origini fanesi, però ha fatto un brodetto, lo vedete qui nella foto, il più aderente possibile a quello che è la ricetta originaria. Cambiamo la testata, andiamo nel Corriere Adriatico, anche qui il SIULP si rivolge al prefetto, siamo terra di conquista, il sindacato di polizia, droga e razzie, ecco quali sono i reati che minacciano la sicurezza. E poi la fotonotizia è per la cronaca, purtroppo a Civitanova investiti, falciati, tre ciclisti, li falcia e scappa, ora si è scoperto chi è stato, è una ballerina di Knight, i carabinieri la rintracciano e lei confessa, dice sì sono stata io, qui vedete un momento, insomma, vedete anche come sono ridotte le biciclette, insomma, questo è stato un attimo subito dopo l'investimento. E poi di spalla qui si parla di sanità e la testimonianza di Luca Bernardi di Iesi che combatte contro la distrofia e insomma dice io ho a disposizione soltanto 214 euro di sussidio per lottare contro la mia malattia. A pagina 54 troverete la sua testimonianza. Poi Basilica di Vitruvio, adesso si cerca in piazza Costa, la piazza del pesce di Fano, vediamo se lì ci sono tracce. Allora, razzie e furti, ecco tutto l'elenco del SIULP che sono ciolato qui nella pagina del Corriere Adriatico, a pagina 2, giri di droga e razzie appunto fatti e non allarmismi, questo è il grido d'allarme delle forze di polizia che dicono forze sempre più scarse e senza ricambio rischiano soprattutto Fano e Urbino che sono vicine a Pesaro. Il Parco Miralfiore è stato anche questo soggetto di attenzione da parte delle forze di polizia per gli accadimenti violenti che ci sono stati nei giorni scorsi, ora si corre ai ripari e oltre alle telecamere e la polizia in borghese, telecamere nascoste anche, però punti per chiamare il soccorso, quindi punti per chiamate di soccorso, adesso vedremo dove verranno sistemati, però anche questa è una misura che sicuramente può tranquillizzare chi frequenta il parco. Andiamo a Urbino, vi faccio vedere le ultime pagine, questa riforma è un disastro, ci riscioli, adesso ascolti i pazienti, si parla di sanità e parla Carlo Ruggeri, portavoce del comitato pro ospedali, questa situazione è il risultato della chiusura di tre ospedali minori nella provincia e qui adesso si va un po' alla summa di quello che è successo e dice difficile trovare i posti letto per acuti, ambulanze senza medico e guardie oberate, guardie mediche oberate. Poi ecco qua la foto che riguarda a Piobbico la festa dei brutti, la Belva vince per la settima volta questo titolo. A Fano invece appunto si parla delle ricerche che sono avviate per la Basilica di Vitruvio, ipotesi allo studio valorata anche dall'assessore Marchegiani che vedete qui nell'occhiello, proprio qui pone l'opera della planimetria di Fano che risale al 1633 e appunto alla ricerca della Basilica di Vitruvio sotto la piazza Andrea Costa che nel 1940 fu rinvenuta appunto nella piazza, la testa scolpita di Ottavia. Tesori ce ne sono nel sottosuolo di Fano e vediamo insomma quelli che quelli che saranno messi a loro disposizione. Bene, questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere per la rassina stampa di oggi, grazie per essere stati in nostra compagnia o che i giornali torna naturalmente domani mattina puntualmente alle 7.30. Grazie e buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.